Un paio di settimane fa ero a Gerusalemme, è un luogo che io amo tanto. Davanti al Santo Sepolcro mi ha avvicinato un amico che mi ha detto Rodolfo, ma come mai gli italiani non vengono più a Gerusalemme? Che è successo? È stato un colpo per me, me ne ero reso conto, ma mi ha messo di fronte a una realtà per cui mi sono mosso, ho cercato di parlare con i Vescovi della Toscana che hanno preso coscienza di questo, fra l'altro dieci di loro verranno con me nel mese di giugno per prendere contatto diretto e poi anche per rianimare le comunità cristiane, le parrocchie, ma anche tutte le realtà, anche le realtà civili a questa possibilità di questo contatto con quella terra che è così ricco da ogni punto di vista, sociale, culturale, spirituale, attuale, perché lì veramente è uno dei nuclei intorno ai quali gira la storia anche attuale. Credo che il piccolo centro di coordinamento che stiamo cercando in maniera molto semplice di mettere su servirà per riferimento a tutte queste iniziative e mi auguro che ci sia una bella risposta perché è importante per quelle comunità laggiù non sentirsi abbandonate, è importante per noi come cristiani, come credenti davvero di radicarsi di nuovo in quella terra.